Un Pokémon Diamante Lucente? Già, beh, ho voluto io verificare le dimensioni, le proporzioni dei Pokémon. E che dire, per alcuni Pokémon, diciamo, d'Italia piccola o media, ci può anche stare per il passaggio col proprio Pokémon. Ma quelli mastodontici come i Pokémon leggendari, ad esempio, Recichica, Stialga, Giratina, Palkia, Graudon, Kyogre, Rayquaza e molti altri di notevole dimensioni, sono ridotti a delle briciole. E' brutto da vedersi, da vedere. N'è vero? E io spero che la Ilka, penso si chiama così Ilka, aggiusti le cose che faccia, diciamo, rendere molto proporzionabili le dimensioni dei Pokémon mastodontici. Perché non si può vedere una cosa del genere. Funziona, beh, funziona bene con Pokémon Spade Scudo, ma si poteva anche fare in Pokémon Diamante Lucente per la Splendente. Beh, per le dimensioni, diciamo, stradali, ad esempio. Tanto appena allontanati il Pokémon si teletrasporta dove siamo noi quando ci fermiamo. Sì, io sono molto d'accordo con Cydonia e del canale Cydonia. Avete presente quello che fa teorie, recensioni, non solo di Pokémon ma anche degli altri giochi? Io sono d'accordo su questa cosa delle proporzioni dei Pokémon. A me, non lo so, mi confortava in Pokémon SoulSilver portare i propri Pokémon a spasso. E io, sinceramente, quando seppi la notizia per la prima volta, che, beh, non è che seppi, ho visto su un trailer di Pokémon Diamante Lucente per la Splendente che si possono trasportare a spasso i propri Pokémon. Mi entusiasmi... beh, mi ero entusiasmato molto. E io immaginavo, molto speranzoso, a spasso con Dialga. Sembra anche una... il titolo di una comedy tv. A spasso con Dialga. A parte la sigla con Dialga, i protagonisti, i professori, i Pokémon, l'antagonista, eccetera. Una comedy classica tv degli anni... degli anni 30, 40. Vabbè, a parte questo... sì, a parte scherzi, sì. Io lo immagino proprio, diciamo, le vere dimensioni del Pokémon. Restare sbalordito confronto al personaggio che è Cibi. Diciamo... Questo... Questo dito... Ha questo pugno. Vabbè, diciamo, tra la dimensione dell'unghia e questo pugno. Immaginavo così le dimensioni del Pokémon leggendario. Cioè, il pugno è il protagonista e l'unghia del tito. Spero di avere reso l'idea. Come ho detto prima, spero che la Ilka barra Game Freak faccia aggiustamento sulle proporzioni delle dimensioni dei Pokémon mastodontici di giuste dimensioni, non facendo restare a dei ridicoli e vermetti leggendari o non leggendari. Ma su Pokémon di piccole dimensioni, come Mew, Girachi, Menefi, ci sta benissimo. Ma su Pokémon mastodontici si deve dare una grande aggiustata sulle proporzioni. Lo dico davvero. E vabbè, io volevo dire alla mia, a voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con me o no? Se no, scrivetelo sotto nei commenti, così saprò le vostre opinioni. Va bene, ci vediamo qua al prossimo video, ragazzi. Vabbè, e poi... Mi mancano soltanto due Pokémon leggendari da catturare. Mewtwo e OhOh e io ho finito la collezione dei Pokémon leggendari. Beh, non del tutto, perché manca Darkrai e Shaming. Shaman, questo scherzo. Vabbè, buona cena a tutti. Ciao.